Signora? Signor Frye? Pronta per il giro? David Shaker si animerà tra poco Ho paura di dover annullare il nostro impegno Il prato pullula dei giornalisti sempre a caccia di nuovi scandali E non posso certo mostrarmi in compagnia di un uomo così Penso io a loro Voi venite quando è libero Sì, sì, farete piano, non è vero? E la stampa è notorialmente sensibile verso ogni violenza sui giornalisti Mi limiterò a un buffetto sulla testa Shhh, Desmond Sono tuoi se fai in modo che quei tizi mi seguano Ma certo, signore Oh, guarda! C'è Squire Bancroft! Meglio seminarle prima che mi facciano a pezzi Signor Bancroft? Ben fatto, giovanotto Easy avrebbe bisogno di voi con i liberali Non fermarti Nella carrozza, la moglie di Israele Non posso farmi vedere qui, signor Fry Piano, piano Forza Così si fa Ripetiamo quelli a volto Bene così Ehi, ehi Dai, andiamo Con calma Bravissima Che postaccio Date un braccio, signor Fry Vediamo che cosa da offrire Devil Seeker Il vostro cane sta bene? Oh, Desmond è così Non ama molto gli estranei Né i gatti Desmond, cosa ti prende? Sapete, quel bravo uomo è un... Come si dice? Sì, un ambulante di... Fa tutto La classe operaia è assai industriosa, non trovate? Assolutamente sì, signora Andiamo? Scusate, bescobo Credevo fosse l'eucarestia Scusatemi tanto Non ho idea di cosa stiate parlando Signora di Israele? Va tutto bene? Oh, sì Ho appena imparato a fischiare Già Attenzione, abbiamo un intruso Alla c'è il buon sale Oh, cielo Tutte miei omaggiati Ben fatto, signor Fry Avete mai pensato di darvi alla politica attiva? Ecco, signor Fry Quell'uomo pare ubriaco Avete ragione, signora Gli chiederò che cosa beve Se permettete, vorrei consigliarvi io qualcosa Oh, signor Fry Guardate un po' là Eh, sì Semprerebbe che... Mi sono sposata due volte, signor Fry So cosa stanno facendo Dio li benedica Che tipo di carne sta vendendo? Meglio non chiedere Perché? È tanto orribile? Oh, che sia ratto Non vorrei essere indelicato, data la compagnia Diciamo che è... Montone Cabaya Eccoci qui All'One-Ton Pub La miglior birra... Così, questa è una pinta Giusto? Notevole Bel canetto Bel canetto Belmond! Bel canetto Ora basta! Oh, bravo, Desmond. Dammi la belva. Cambierà la musica quando io e i miei ti troveremo. E adesso, Desmond, torniamo dalla tua padrona, che ho lasciato tutta sola in un poco raccomandabile pub di Londra. Beh, se non avete mai detto a vostro padre che cosa provate per lui, come potrei mai saperlo? Non l'avevo mai vista così. Forse in realtà vogliamo solo essere amati. Esattamente. Ecco, un dolcetto. Oh, Desmond! E il signor Fry? Vorrei presentarvi... Scusate, com'è che vi chiamate? Johnny il Bruto. Piacere. Penso sia ora di tornare a casa. È così, signor Fry. Vieni qui, Desmond. Bene, bene. C'è qui il difensore dei cani. Ne... Ne evitiamo di fare sciocchezze. Che cavallo obbediente che sei. Andiamo. Bene. Vi ringrazio per questa vivace e istruttiva serata, signor Fry. Andiamo. No, grazie a voi, signor Fry. Ora potete dirmi dell'uomo vestito da USA? Certo. Lord Cardigan è il gentiluomo che cercate. Un tipo noioso. Parla sempre delle sue imprese militari. Sapete dove posso trovarlo per parlare con lui? Certamente. È in città ora. Impegnato a screditare il Corrupt Practices B. Forse potete trovarlo al palazzo di Westminster. Ma attento, il governo non reggerà ad altri scandali. Vi assicuro che sa... Ci siamo, signora. Ci siamo. Siete un gentiluomo. Grazie. Grazie per la splendida serata, signor Fry. Parlerò gran bene di voi al mio Dizzy. Oh, sì. Stai minacciando, eh? Io so come sistemare le minacce. Io so come sistemare le minacce. Grazie.